Investimenti online semplici e convenienti. La pubblicità comparsa su internet mentre navigano in reti ha tirato le attenzioni di una donna di Chiusano San Domenico che ha chiesto subito informazioni e dopo aver compilato una scheda è entrata in contatto con un promotore finanziario. Il sedicente agente l'ha contattata sia su whatsapp che telefonicamente proponendo le operazioni di trading online, acquisto e vendite di titoli attraverso il computer, convincendo la signora ad effettuare due primi bonifici di 3.500 euro su un conto inglese. Per farla cadere nella trappola e dimostrare la piena affidabilità degli investimenti il truffatore, un trentenne pakistano residente a Milano, le ha anche inviato un accredito di 1.000 euro. A questo punto la donna si è convinta della bontà delle operazioni ed ha effettuato altri bonifici per un totale di 58.000 euro. Quando la donna ha raccontato tutto ad alcuni parenti è stata convinta a rivolgersi ai carabinieri che le hanno comunicato di essere stata truffata per ben 66.000 euro. La successiva indagine, avviata dagli uomini dell'arma, ha permesso di risalire all'identità del truffatore che alla luce delle evidenze emerse è stato denunciato in stato di libertà.